Diamo una mano, ringrazio a Valerio Scano per la generosità dimostrata. Mettendo all'asta la sua canotta gialla durante il suo concerto, abbiamo raggiunto la modica cifra di 3.080 euro, somma che verrà utilizzata per sostenere le varie iniziative nel reparto di oncologia pediatrica di Napoli. Un in bocca al lupo a Valerio Scano che lo sa partecipazione a tale e quale show. Un bacio! Ciao Valerio!